Assessore Riccardi, Selecting Italy è anche l'occasione per trattare un tema importante, quello degli investimenti dei privati in sanità. Investimenti che sono determinanti, determinano un'alleanza di un servizio primario che deve essere garantito dal pubblico e che devono accogliere anche le opportunità che i privati possono mettere in esposizione. C'è un grande tema della Silver Economy, noi viviamo molto di più e quindi la capacità di ricerca e scienza di metterci a disposizione nuove tecnologie, tecnologie innovative per governare processi di cronicità importante a beneficio delle persone anziane. Io penso che ci sia uno spazio estremamente importante che migliora le condizioni di vita delle persone e determina anche opportunità di natura economica.